Pasolini ha inventato la scomparsa delle luce questo è quello famosissimo, credo, da noi sul vuoto del potere in Italia un testo del 1975 generalmente conosciuto come l'articolo delle luce poiché sono uno scrittore e scrivo in polemica o almeno discuto con altri scrittori mi si lasci dare una definizione di carattere poetico letterario di quel fenomeno che è successo in Italia una decina di anni fa John servirà a semplificare e ad abbreviare il nostro discorso e probabilmente a capirlo anche meglio nei primi anni 60 a causa dell'inquinamento dell'aria e soprattutto in campagna a causa dell'inquinamento dell'acqua gli azzuri fiumi e le rocce trasparenti sono cominciate a scomparire le luce il fenomeno è stato fulmineo e folgorante dopo pochi anni le luccione non c'erano più sono ora un ricordo abbastanza straziante del passato grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti